Cammini è un gruppo di lavoro che si è costituito all'interno del circolo Legambiente Riviera del Brenta. È formato da persone che amano camminare. Lo scopo principale del gruppo è di descrivere la situazione delle rive e dei corsi d'acqua rispetto alla possibilità di percorrerli a piedi. Il primo è il Naviglio Brenta, di cui Cammini intende esplorare le rive fotografando i passaggi difficili, i punti che hanno bisogno di manutenzione, gli ostacoli, la possibilità di realizzare dei punti di sosta. Insomma, camminare per piacere, per star bene, per vivere il nostro territorio e per accogliere osservazioni e testimonianze che serviranno per proporre il recupero dei cammini lungo le rive. Cominciamo con quelle del Naviglio Brenta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.